Grazie a tutti Buongiorno amici Buongiorno 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 è così bello, quindi cominciamo il nostro tour da qui, da l'Arena, e nella piazza dell'Arena c'è questo grande mercato per alimentare, che stanno vendendo molto di alimentare, ma anche alcuni vestiti e altri articoli, qui in fronte dell'Arena, e poi finiremo il nostro tour, il nostro video nel Duomo di Verona, il meraviglioso Duomo di Verona, molto molto bello, quindi molto felice di essere qui con tutti voi, e cominciamo il nostro tour di viaggio di Verona, una bella città, per visitare in winter, ma anche in summer, tutto il anno è molto bello essere qui in Verona, e dentro dell'Arena c'è che puoi anche entrare, ci sono persone stanno spaventati qui, quindi pagatevi il tuo ticket e poi entri a questa porta qui, e puoi visitare anche l'Arena da dentro, quindi andiamo ragazzi, entrerremo nel centro, vedremo la casa di Giulietta, e poi andremo al Duomo e andremo a camminare il bellissimo centro di Verona, andiamo amici, andiamo amici! Allora, andiamo a vedere qui il mercato, cosa vendono, cosa hanno venduto, cosa hanno, vediamo diversi prodotti, bambini, cose per la casa, o potete avere la vostra città, spesso, vengono la stagione a casa, per esempio, poi hanno un po' un po' da panna con pochetta, molto pochetta, che stanno vendendo qui. da questa dobbiamo andare la città Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è molto bello, è molto bello, è molto bello Guardate cosa hanno fatto per Natale, hanno messo questa stagione, inizia dalla arena e inizia alla piazza Inizia alla arena faccio anche molti concerti durante l'anno, molti eventi E qui non c'è questo mercato, quando non c'è il mercato è molto bello Perché tutti questi stagioni che vedete qui hanno barri o restaurazioni sotto Quindi puoi sentire qui nella stagione e prendere il vostro caffè e il vostro aperitivo con il panorama dell'arena Vedete qui, tutti questi sono barri dove si senti fuori, sulle tavole E piacciono il panorama dell'arena Quindi puoi sentire qui e l'arena è ovvero Grazie 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 Questa è la inizia per la arena and look here there is this school going around in verona imagine guys to have to study here in verona to start your school here in verona very nice you are in the unesco city of verona surrounded by by so many beautiful buildings and history so via mazzini it's over here and we will take via mazzini now and we go first to see the house of julietta look at this guy so beautiful painting here so 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 the street of the shopping so there are a lot of boutiques boutiques everywhere so so and of course everybody who comes to verona first they stop in the arena and then they go to see the house of julietta because verona it's also named the city of the the world of the bohemian in over the city of love oh for me oh it's from here the beautiful history of romy and julietta and now we go to see the balcony from where julietta Quasi, colline, romeo Grazie a tutti. 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 So, here we are in Via Cappello, the new town on the right side. And you arrive to the house of Giulietta. So, send me your comments, guys, if you have been already here in Verona, if you already know the city and if you have been visiting everything, the Duomo, the house of Giulietta, the arena, the castle and everything. And it's such a city where you can spend even two days and you will see a lot of things. So, guys, they changed the entry. So, guys, they changed the entry until a few months ago you can enter from here, but now you have to turn around from Piazza dell'Erbe. And then you have to turn around from there and then you have to turn around from the right side. So, guys, they changed now to the entry for the Casa di Giulietta. So, guys, let's go. ora questa è l'entrata ora entri da qui, dal teatro di Verona questa è l'entrata e poi puoi andare dall'altra parte ecco ragazzi e finalmente siete qui in una bella casa di Giulietta puoi visitare la casa e tu sarai qui e puoi andare dall'alto o molte persone vengono qui e prendono una foto con Giulietta grazie allora ragazzi questo era il cortile il quadro dove Romeo veniva e chiamava Giulietta da l'alto e vedete che tutti che vengono qui e prendono la foto che hanno bisogno di toccare le tiglie questa è la tradizione ragazzi di avere amico nella tua vita venite e toccare le tiglie di Giulietta quindi ragazzi questa era la casa e il cortile di Giulietta se vuoi entrare anche nella casa pagate 6 euro e puoi andare nella casa di Giulietta altrimenti entrare qui nel giro è per free e ora è l'entrata prima potete entrare e andare fuori dalla stessa porta ora è solo per l'entrata la parola la parola la parola tagliate la parola l'alto e stessa il Grazie a tutti. 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 Here in the Mercatini di Natale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 in the Christmas markets in the Christmas market. of Verona. There are a lot of stands, a lot of people around. Today it's Monday. But you see, it's very busy. Imagine on Saturday or Sunday. sarà pieno di persone in tutto il quale Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Voi venite e ascoltate tutti i prodotti dell'Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E da qui siamo andati al Duomo di Verona. Dove che ti darlo in Verona? Grazie a tutti. 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 Vi vedremo la descrizione. Inoltre il link per comprare il ticket e tutte le informazioni. E poi vi puoi venire e entrare in la Basilica. È un ticket dove avete la possibilità di entrare in diverse... Le ricerche, anche la cattedrale e la Basilica di Santa Anastasia. Qui c'è l'hotel Due Torri. Just next to the Basilica in the center of Verona. There are many beautiful hotels here in Verona. where you can stay. And I will also leave you some suggestions with the link for booking the hotels. So that when you come to Verona you have everything already set. And guys remember when you come to Verona, especially in summer time. And you want to see some event in the arena. In Verona it's always good to book in advance. This is very important. When you want to have... You don't want to waste your time. And to experience as much as possible the beauty of Verona. Always my recommendation in high season is to book everything. There are even some places where maybe the entrance is for free. But there is only a certain amount of people that they can enter per day. For example in the Corte of Casa di Giulietta. Even if it's for free in summer time you have to book in advance. Because there are only a certain number of people that can enter in the house or in the Corte. And now in front of us guys. Few minutes and we will arrive in the Duomo. The Cathedral di Verona. So from Santa Anastasia it's just two minutes of walk. And look here nice restaurant. Osteria on the way. Small but very typical and beautiful. And here another amazing church. Chiesa Evangelica Valdese. And here. Very soon we are in the Duomo. And guys send me also your comments. Or your suggestions about our channel. If you have some suggestions. Some place. That you wanna visit. When. We do our walking tour. It's always good. To know your idea. What you are thinking about the channel. And if you have some suggestions. Just leave. Your comments. Below. And we will. For sure. Follow. Your suggestion. As much as we can. Wow. Look here. To visit the Duomo guys. It's another video. You need. Some hours. To go inside. And visit the Duomo. So big. It's not just the Duomo. It's a complex. Complesso monumentale. Del Duomo. So it's. Different buildings. One. Next to the other. But inside the Duomo. Guys. Wow. It's amazing. Guys. Inside the Duomo. You see the. You can see the pictures. In our blogs. And pages. Inside the Duomo. It's just. Amazing. Full of. Beautiful. Frescos. And paintings. It's. Unbelievable. A mildly. Then comes a roll. A love. Ah this. It looks beautiful. A few eyes. Oh no it's fucking good. There's awesome. It's amazing. so the duomo it's from the 12th century and here you have the Chiostro Romantico Museo Canonicale where you can enter for free take some pictures and see also this older part of the duomo here at the stage of Dante, in the middle of the walk of our life here is the first phrase of his opera of the Divina Commedia here 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 Grazie a tutti. 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 Wow. di... di questa... e... ... di... 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 so nice so when you come guys they give you this map and the entry and you enter for a meal and then you visit first the Battistero then the Chiesa di Sant'Helena and then the Duomo right now we are here in the Duomo di Verona inside the amazing Duomo di Verona wow send your comments guys send your comments and your feelings when you are watching such a wonderful church you 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.